Io non parlo con loro, voglio parlare con voi, siete voi per favore, di cuore per la città di Genova, io sono andato lì e sono andato a scuola lì, vi prego voi prendete i mezzi di informazione in mano, fate le vostre dichiarazioni a loro, io non ci parlo, io ho messo un IBAN, siete voi che dovete rispondere a questo agito, se succedono queste cose due volte su queste cose, la responsabilità di una cattiva, sempre cattiva e devastante informazione di questo paese che vi sta rubando il futuro, il problema nei rapporti tra le persone sono i mezzi di comunicazione, perché se io parlo con voi, arrivano le televisioni, voi siete problemi pensi a pensare che io sia qua per farmi riprendere la televisione, quindi il rapporto è venuto a farsi lo sport su di noi che spaliamo il fan, allora si crea un dissidio, ci giocano, vengono con le telecamere a dire perché tu non spali, ma gliela faccio io, ma allora siete voi che dovete rispondere ai media, vi prego, siete voi che state aiutando le persone e le persone che non sono qua, devono sapere chi siete, che state aiutando a prescindere da dare nessuna colpa, ma per venire qua e aiutare, questa gente incrina questo rapporto.